bene a tutti ragazzi e ragazze bentornati in questo nuovo video in questo nuovissimo serie vlog mentre stai doviando stiamo scappando perché abbiamo appena fatto la dc challenge epica signori soprattutto per dad non ho spoiler più niente anzi meglio metterci il cappello troppo freddo a piovendo giusto a me cioè io sono tutto mollo sono tutto mollo e adesso stiamo andando qua c'è una carriera libertata ma che cazzo di senso c'ha ragazzi non c'è sesto mi fa scattare un bel selfie raga fio di telefoni oh frost le vici che sono dun 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 aspetta va bene non si vede comunque non è arrivata ma sta a piovo? come mai vedete? ok andiamo le news da dun 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 ok vieni le news le news zippo fuck dad eh le news del della settimana è che ho l'ombra di murder dite dite se volete una serie su quello prestato da me prestato da dad poi eh potrò fare anche una serie di mortal kombat la storia però insieme a noi la storia non è vero non è vero non è vero eh poi eh niente non non ce ne ho tante in realtà ah forse andrò a luca comics tante 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 e io andrò insieme a me ma e anche tocca noi tre forse andremo a luca comics io ci vado sicuro loro non lo so loro non lo so vedete nel video lo vedrete nel video lo vedrete nel video comunque 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 rubiamo la macchina fuck the movie si rubiamo il cera pura lì rubiamo il rubiamo il furgoncino dei mate no se lo sono fatto io me lo rubo ma cazzo vabbè ehm no in realtà cosa potrei fare adesso ehm scrivetemi anche nei commenti cosa dovrei fare nei prossimi vlog perchè per adesso non ho niente da fare tipo abbiamo fatto tipo il ma adesso sto facendo un annuncia un un annunciato per dirvi che ho incominciato questa serie qualche puttana il telefono mi scarico quindi boh ditemi sotto nei miei nei commenti ditemi heistag matti fai matt fai questo e io lo farò qualsiasi cosa basta che non sia pericolosa se mi dite fai buttati da un cespuglio no 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 ed abbiamo scambiato un cespuglio scambiato per un cactus comunque comunque potete scrivere qualsiasi cosa basta che non sia pericolosa anche degli esperimenti tipo la coca cola con la mentos gommosa no la mentos gelatina la cosa gommosa tipo un pene allora vabbè tutto quello che dite a mento noi tre faremo per questo video è tutto non ci so per questo video è tutto da me totedad è black è black non si vede sto diluviando è la macchina ci vediamo nel prossimo video bella